Con la produzione Svansi Siri Ballet Around Movement, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Vaguernera, va in scena la prima di Amara Satira, Omnia, Mozart e Brecht, Ambiguità a Confronto, con la regia di Davide Garattini dai Mondi. Le coreografie dirette da Melissa Zuccalà, lo spettacolo vedrà la partecipazione di un cast di giovani talenti e del soprano Miriam Ziarna, Amara Satira, Omnia, Mozart e Brecht, Ambiguità a Confronto, al Teatro Garibaldi di Enna, il 5 aprile ore 20 e 30. Biglietti in prevendita presso teatrogaribaldidienna.it e al botteghino.